Grazie a tutti Ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricci Vittoria Gerace Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Ritapo Su di noi puoi scommetterci Babbo Natale ha già risposto alla mia letterina Mi donerà tante belle partite, un calcio meraviglioso e un sacco di gol di pregevole qualità A cominciare da oggi Gentili telespettatori di S1 TV Buon pomeriggio dal comunale di Montepone Fabrotto Magnis Dove si sta per giocare la partita valida per la tredicesima giornata di andata del campionato di prima categoria Calabrese Girone C Tra Montepone e Monasterace Le due squadre stanno per entrare in campo agli ordini del signor Rocco Marchesano di Taurianova Che al momento sta controllando le reti e la regolarità di tutto quello che serve per iniziare la partita E la squadra esterna 65 di Soverato 1 TV con Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, la voce di Giuseppe Ranieri L'uomo dei numeri Maurizio Vatrano, il collegamento con tutti i dati giornalistici di Adele Chiaravalloti E la voce a supporto di Giorgio De Filippis che vi saluta Per dare il via appunto a questo match E siamo qui in tribuna stampa È una giornata fredda ma non freddissima Dove si attende anche a Soverato l'arrivo di Babbo Natale Che ci porterà tanti regali E quindi noi chiediamo ai nostri compagni di viaggio A cominciare da Giuseppe Ranieri Se ha fatto la letterina a Babbo Natale No, ancora no, per questioni di tempo, ancora no E come vedi questa partita che va a iniziare? Vabbè, quando siamo giunti ormai alla tredicesima di campionato Il Monasterace si presenta con 10 punti In condominio con lo Stignano, rivale storico Terzo ultimo in classifica E dopo la batosta in quel di Lamezia Guadagna una vittoria in casa col Tropea E cercherà di guadagnare un punto prezioso e fini salvezza Mentre il Montepaone che scende vittorioso da Chiaravalle Dovrebbe avere un match sulla carta Diciamo positivo Ma non è nulla facile finché la palla gira E chiediamo a Mimmo Cosentino invece Il consueto pronostico su questa partita A bocce fermo Ma questa è una partita che già si gioca per la quarta volta Ha sempre avuto la meglio il Montepaone Quindi non penso che anche questa volta sarà così E intanto quindi diamo le formazioni che sono giunte qui in tribuna stampa Agli ordini di mister Salvatore Regolo Il Monasterace e Schiera Minici, Gaetano, Scarano Guido, Messineo, Tassone Chiodo, Papaleo, De Luca, Pilato e Galati In panchina Fazzalari, Paparo, Coniglio Carnuccio, Calabrese, Fraietta e Origlia E di fronte al suo pubblico che sta assiepando Anche il secondo anello del Frabotto Mannis Il Montepaone invece si presenta con Lombardo, Fiorentino, Ienco Mellace, Cannistrà, Bassi, De Masi Paparazzo, Capitano Marco Voci, Salvatore Procopio Marcellino e Domenico Voci Accanto a mister Pisano In panchina ci sono Leone, Nania, Carpino Chiarelli, Conidi, Fiorentino e Pirritano Le due squadre si sono già schierate Il Monasterace e squadra ospite Ospite in tenuta blu con inserti neri Calzoncini neri e calzettoni nero-blu Attaccherà da sinistra verso destra Mentre il Montepaone con la maglia ormai classica Quella che comunque ha il simbolo e il ricordo Di Gregorio Vatrella A strisce orizzontali giallo-verdi Si prepara ad attaccare da destra verso sinistra Anche se alla battuta del primo calcio Per iniziare la partita Sarà proprio il Monasterace Vediamo che il signor Marchesano si sta accertando di tutto E dà il via a questo match Che appunto comincia con il Monasterace Che cerca il lancio lungo in profondità Dove però il pallone è preda di Fiorentino C'è un rimbalzo e uno scambio con Pilato Che allunga verso il numero 11 Galati Che viene fermato da Cannistra E quindi il ritorno del giocatore del Montepaone Che mette la palla in rimessa laterale Alla quale è chiamato a batterla Appunto Scarano numero 3 Scarpette rosse Scarsocrinito Recupera De Luca che scambia ancora Ancora Scarano che mette in mezzo il pallone Però nella zona di competenza di Marco Voci Che si ferma, ragiona E imposta l'azione scambiando con Bassi De Masi Ancora Marco Voci Che allarga verso Cannistra Che subisce il pressing di Galati Ma se è libero allargando sull'esterno per Fiorentino E Domenico Voci che di destro Tocca per Procopio Che come al solito di petto Cerca di innescare Marcellino Ma viene chiusa la trama offensiva Il Montepaone Dall'intervento dei difensori Del Monasterace Recupera l'Eylander Armando Mellace Che cerca il lancio lungo Con accelerazione decisa di Ienco Che va a recuperare la palla Anticipando Gaetano Mette in mezzo il pallone Molto bravo Ienco Che ci ha creduto E' partito in velocità E' conquistato Ora che siamo al primo minuto Del primo tempo Il primo calcio d'angolo Per il Montepaone Con Armando Mellace Che va a occuparsi Della battuta E tutto il Montepaone Si tratta in questo momento Di sei persone Anzi sette Tutto il Montepaone Dicevamo all'interno Dell'area di rigore Parte la parabola di destro A rientrare di Mellace Colpo di testa In uscita del Monasterace Recupera ancora Mellace Altro cross Insidioso Con Minici Che chiama palla E la blocca con sicurezza Facendo poi risalire E rifiatare tutta la squadra Quasi speculari Le maglie dei due portieri Rosse entrambe Con un inserto giallo Quella di Lombardo Con appunto Una maglia della salute Bianca I calzettoni bianchi Quella di Minici E qui vediamo Che oggi Giuseppe Ranieri Si è messo Attirato da Mimmo Cosentino In poltroncina VIP Qui in tribuna stampa Lo sento un po' Con preoccupazione Alle mie spalle Ma fai una marcatura uomo? Sempre uomo No no assolutamente È solo una questione Di comodità oggi E come la vedi? Com'è partito il Montepaone? È partito bene Già al primo Un lungo lancio di Mellace Ha messo sotto pressione La difesa ospite Ma adesso in questo momento Ed è il tiro di Marco Voci Che su imbeccata di Ienco Ha cercato il tiro Dal limite dell'aria Con un esterno destro Bloccato da Minici Ma dobbiamo annotare Che Gaetano probabilmente Ha sbagliato Tacchetti Perché è la seconda volta Che scivola in quella zona del campo Lasciando quindi ampio spazio A Ienco Che è partito in velocità E poi ha servito Marco Voci Che ha tirato bene Però angolando poco Il tiro Chiodos cambia con Scarano La palla rinvalza Ma è Mellace Che tocca per Marco Voci Passaggiano look Per Procopio Che cerca di girarsi Si inserisce Messineo E tocca per Scarano Che cerca di reimpostare l'azione Ma viene bloccato da Domei Covoci È elegantissimo Lo stop in corso di Domei Covoci Che tocca per Fiorentino Arriva sul fondo Mette in mezzo Marcellino E il tiro viene ancora bloccato Da Minici Che certamente oggi Dovrà fare degli straordinari Perché nel giro di 3 minuti E 30 secondi È già intervenuto In maniera importante Per tre volte Recupera il pallone Galati Lo scambia con Messineo Messineo si appoggia Sul numero 8 Papaleo Cercano di dialogare I giocatori del Monasterace Con Scarano Che però non riesce A mantenere la palla All'interno del rettangolo di gioco Con il Montepaone Che in pratica Si è già rovesciato Interamente Nella metà campo Della squadra ospite Del Monasterace E Mellace Che recupera il pallone Alle spalle Viene attaccato da De Luca Che lo mette giù Fischia Marchesano E si riprenderà Con una punizione Mentre rimane a terra Mellace Che probabilmente Ha ricevuto un colpo Alla schiena Ma si riprende Prontamente Mentre sarà Paparazzo A cercare di calciare Questa punizione Con Marchesano Che specifica bene Che una differenza Di 30-20 cm È fondamentale Per il posizionamento Della sfera Conta i passi Intanto Paparazzo Mentre c'è un gruppo Di giocatori All'altezza Dell'area di rigore Del limite esterno Dei 16 metri Rispetto alla porta Difesa Da Minici Si aspetta solo Il fischio di Marchesano Che arriva Si muove Mellace Parte Paparazzo Troppo lungo Anche se Cannistra Si era già proiettato Perché sappiamo Che queste sono palle Importanti E Maurizio Vatrano Quest'oggi È vicino a me Non mi cambiate Tutti i parametri di vita Io sono abitudinario Maurizio Vatrano Alla mia destra Però posso vedere Quello che fa Un bel campo Dove sta segnando Già dei dati Certamente Cerchiamo di non farci Ne sfuggire nemmeno uno Perché poi Possono risultare Non dico Determinanti Ma comunque Ci danno sempre Delle indicazioni Sul costrutto Della squadra Del gioco Della squadra Grazie Maurizio L'uomo dei numeri L'uomo del computer L'uomo del domani Perché diciamo In queste categorie Ancora non è abitudine Fare questi ragionamenti Vedere appunto Uno scoutman Col computer Il lancio Viene interrotto Intanto dal numero 2 Gaetano Ma recupera ancora Bassi De Masi Che si appoggia subito A Lombardo E ricomincia Il fraseggio Con Domenico Voci Che torna indietro A riprendersi La palla Un po' Alla Pianic Potremmo dire Scambiando ancora Con Lombardo Che poi calcia In profondità Verso Fiorentino Ancora uno stop Elegante Di una squadra Tecnicamente ben dotata A tutti i livelli Viene allargato Il pallone Per il numero 21 Marcellino La palla arriva al centro Viene ribattuta Da Tassone Ancora Marcellino Che combatte Con Galati Che lo stende E quindi C'è una punizione In una posizione Importante Quella è una mattonella Dedicata A Mellace Ma vediamo Che in questo caso Si avvicina Paparazzo Che probabilmente Calcerà di destro Anche se quella è una posizione Utile Anche per Il calcio di sinistro Però la parabola Dovrebbe favorire Qualche colpitore di testa Mentre il Monasterace Si è schierato Con praticamente Tutti gli effettivi Ad eccezione Di De Luca All'interno Dell'area di rigore A difesa appunto Di una situazione Offensiva Da parte del Montepone Che potrebbe creare Qualche preoccupazione Per Minici Si prepara a battere Quando ci sarà il fischio Di Marchesano E appunto Paparazzo Che controlla La posizione C'è qualche Sgomitamento Tra Cannistrà E il suo diretto Marcatore Arriva il pallone Colpo di testa Di Marco Voci Che arriva Colpisce Impatta la palla Ma non riesce A dare quella direzione Che avrebbe potuto Favorire la rete E un eventuale Intervento pericoloso Per Minici Giuseppe Ranieri Può essere che Marco Voci Non è ancora Concentratissimo Perché ha fatto Un tiro e un colpo Di testa Non da per suo Beh potrebbe ancora Non essere entrato Completamente in partita Vista la mancanza Di decisione Nelle ultime due occasioni Anche se Un Marco Voci Che non entra in partita E come un giocatore Almeno di eccellenza Per queste categorie Poi quando Riesce a trovare Anche la concentrazione Diventa veramente Una Una spina nel fianco Per la squadra avversaria E Ienco Che effettua la rimessa Verso Procopio Che non riesce A controllare il pallone Viene raccolto ancora Dal numero 5 Messineo Lancio lungo Per De Luca Chiuso nella morsa Cannistrà Bassi dei Massi Con Lombardo Che poi incomincia A calciare In fase di riscaldamento Abbiamo potuto apprezzare Lombardo Che al momento Di restituire i palloni Dalla sua porta Li ha messi tutti Con precisione All'interno Della panchina Del Monte Paone Quindi piedi buoni Anche nel portiere Anche se si trattava Di allenamento Maurizio Come sono i piedi Di Lombardo E tra i portieri Che ho potuto Osservare Il Monte Paone Apertura lunga Allarga per Cannistrà Consueta operazione Del Monte Paone Per sfruttare in larghezza Tutto il campo Il pallone Ha di fronte Di fronte a Segalatis Cambia ancora con Cannistrà Che subisce l'attacco Di Pilato Ma si libera del pallone Toccando per Lombardo Che a sua volta Allarga per Bassi dei Massi Gli si fa incontro Paparazzo Fraseggio elegante Del Monte Paone Che con pazienza Cerca di scardinare La situazione difensiva Di un monasterace Come di consueto Messo bene in ordine In campo Da quell'uomo mitico Del calcio comprensoriale Che è Mister Regolo Davvero un simbolo Per signorilità Ma anche professionalità E capacità Di intendere il calcio Nella maniera migliore possibile E Minici Che calcerà Dalla sua aria piccola Questo rinvio Minici lo vediamo Con scarpette Rosse e bianche Intonate con l'intero completino Quindi a lui va Il premio eleganza In questo momento Calcia anche con decisione In direzione di Guido Che alza il pallone Dove però Quest'ultimo è preda Di Marcellino Che appoggia per Fiorentino Che deve liberarsi L'attacco di Pilato Rinvia verso Domenico Voci Doppio passo Riparte Domenico Voci Allarga per Marcellino Che non ha avuto fiducia Nel tocco preciso Di Domenico Voci E la palla Sotto il controllo Attento di Tassone Finisce in rimessa dal fondo Con il Monasterace Che ora che siamo giunti All'undicesimo minuto Proprio in questo momento Veramente mancherebbero Ancora tre secondi Del primo tempo E ancora sullo 0-0 Con un Montepaone Che sicuramente in casa Non può fallire L'appuntamento Con la vittoria Recupera ancora Gaetano Che scambia Ma si ruba palla Procopio Che controlla Calcia con decisione Ma anche in questo caso Centrale Il tiro Che Minici Riesce a Arpionare Con tranquillità Grazie a una buona posizione In campo Si prepara ora Al rinvio Vediamo se scambierà Con Messineo Alza Il braccio E poi lancia In direzione di Chiodo Che stoppa Appoggiando per Gaetano Il lancio però Vede intervenire Bassi De Masi Mellace Per Domenico Voci Che comincia subito A ragionare Con Canistra Lombardo Chiama palla Dice Non vorrete mica Iniziare un'azione D'attacco Senza che io Tocchi il pallone Bassi De Masi Ancora per Lombardo Che riceve E allargerà Probabilmente Lo fa in questo momento Per Canistra Buono il controllo Di Canistra Ha di fronte a sé Pilato Allarga per Mellace Che è tornato indietro A prendere il pallone Per poi smistarlo Verso Rocco Ienco Che però viene Anticipato da Gaetano Ancora uno scambio Con Il numero 4 Guido E poi la palla Finisce Rimessa Laterale In favore Del Monasterace Sarà Probabilmente Gaetano Non si sono capiti Su chi dovesse battere Era indeciso Anche l'arbitro Alla fine Tocca al Monasterace Gaetano Che rimette Verso De Luca Che tocca di testa In direzione di Papaleo Ruba palla Marcellino L'appoggia poi All'indietro Per Fiorentino Con tutto Il Monasterace Che si rischiera E a questo punto Notiamo distintamente La linea Di quattro difensori Alla quale Si unisce una linea 5 A centrocampo E probabilmente Con De Luca Unico terminale Offensivo Quindi un 4-5-1 Ma a questo proposito Chiediamo a Giuseppe Ranieri 4-5-1 Si perché il Monasterace È un 4-5-1 Si si La Cassazione In questo caso Dopo il primo grado E l'appello È rappresentata Da Mimmo Cosentino Che sicuramente Ci conferma Il 4-5-1 Confermato Giorgio Confermato Caspita Poco a poco Stiamo incominciando A capirne anche di calcio E questo è un risultato Altri 12 anni E diventerò un intenditore Il tocco viene intercettato Da Rocco Ienco Che scambia per Mellace Che riceve Ancora E lascia A Ienco E si appoggia all'indietro Su Bassi De Masi Che allarga Sulla destra Per Cannistra Il centrale Alla Chiellini Che imposta tutte le azioni E poi si appoggia Su Mellace Ancora Bassi De Masi Che di destro Cerca di lanciare Sulla corsa Ienco Il pallone viene intercettato Da Gaetano E poi due giocatori Del Monasterace Si tratta di Papaleo E di Chiodo Non riescono a controllare La sfera E quindi si riprenderà Con una rimessa laterale In favore della squadra Di Mister Pisano Che vediamo Come al solito In piedi davanti Alla sua panchina Rigorosamente all'interno Dell'area tecnica Ricordiamo intanto Che le partite di ieri Del sabato Hanno visto Il Mammo La battere Per 4-0 Il Borgia E il Badolato Corsaro A Tropea Per 2-1 E intanto Notiamo anche Che il Montepaone Continua a tambureggiare Come attacco Recupera ancora la palla Viene intercettata Però quest'ultima Dal Monasterace Che riparte Ancora con Guido Il passaggio È bloccato Da Francesco Fiorentino Ancora Domenico Voci Che se ne va In bello stile Appoggia per Fiorentino Mette in mezzo Il pallone Buono l'intervento Di Guido Che chiude Ogni traiettoria E appoggia per il numero 11 Galati Riparte Il Monasterace Fermato subito Dal recupero Di Domenico Voci E la palla Finisce a Lombardo Dicevamo Il Montepaone Che con i suoi 26 punti È a 6 punti Distanza Dal San Calogero Capolista Mentre il Monasterace Come diceva in apertura Giustamente Giuseppe Ranieri Con 10 punti E terz'ultimo Anche se il Tropea Ieri è stato battuto E il Caolonia È ancora a 2 punti Quindi lontano Il lancio Ora favorisce Torniamo in telecronaca Bassi De Masi Che però non controlla Da par suo Esplode anche In un grido Di arrabbiatura Che certamente Non farà contento Il suo insegnante Di catechismo Ma la palla Finisce in rimessa laterale E sarà appunto Il Monasterace Con Gaetano A effettuare Questa rimessa laterale Senza fretta Cercando di favorire Papaleo Interviene Marcellini Anzi Ienco Che combatte Alla grande Ruba palla Appoggia per Bassi De Masi Che rilancia In direzione Marco Voci Stop Di sinistro Lancio di esterno Preggevole Verso Salvatore Procopio Si chiudono Si chiudono Contemporaneamente Messineo E Tassone E la palla Finisce In rimessa Laterale Ma molto bella Anche l'imbeccata Di Marco Voci Che si intende A meraviglia Con Salvatore Procopio Sarà però il Monasterace A effettuare Questa rimessa Con le mani Nello specifico Tocca a Gaetano Che si prepara Appunto a lanciare In direzione Che però è Densa come presenza Di giocatori Del Monte Paone Bassi De Masi Mellace E poi ancora Cannistrà Che restituisce A Bassi De Masi Mentre si dispone Tutta la linea D'attacco Del Monte Paone Paparazzo Finge il tocco Apri lo spazio Per Marco Voci Che allarga ancora Dove però oltre a un tocco di mano C'è stato anche un fallo Un intervento scomposto Di Guido Che ha impedito Appunto a Marco Voci Di calciare con precisione E quindi si riprenderà Con una punizione All'altezza dei 40 metri Rispetto alla porta difesa Da Minici Posizione defilata Sulla sinistra Con Paparazzo Che appoggia per Mellace Che gli restituisce subito La palla Ancora Paparazzo Ancora Mellace Torna un po' nella zona Con maggior densità Di traffico Il lancio è per Ienco Con Gaetano Che fa valere il fisico Per proteggere Il pallone E Canistra Che deve tornare Ora rapidamente Alla sua posizione Difensiva Perché si era proiettato In attacco Sperando appunto In un colpo di testa Specialità della casa Tocca ora a Minici Calciare ancora Di destro Andando a cercare Scarano La palla però Finisce direttamente In out E sicuramente Il Monasterace In questo momento Sta un po' soffrendo L'attacco ritmato L'attacco Anche rapido E intenso Del Montepaone Che sta appunto Cingendo d'assedio La difesa Dei giocatori Regini E ancora Il tocco È per Domenico Voci Che si divincola Arriva sul fondo Mette in mezzo Il pallone Ci pensa Messineo A lanciare via E poi Scarano Che è imposta Per Galati Che recupera La palla Cerca il lancio In profondità Per De Luca La palla però È imprecisa Il suggerimento È impreciso E si riprenderà Con una rimessa laterale In favore Dei giocatori Giallo-verdi Del Monte Paone Giuseppe Quale può essere Il grimaldello Per rompere La cassaforte Del Monasterace Io penso che In un qualsiasi momento Della gara L'equilibrio Si possa rompere Perché È una gara A senso unico E la difesa Del Monasterace È sempre Continua Chiamata Gli straordinari Procopio Riesce a sfondare Come anche Voci Marco Ci vuole Quel giusto pizzico Di cinismo E intanto Recupera Papaleo Che al quale Però viene subito Sottratta la palla Mellace Esterno A favorire Lo scatto Di Ienco Che nonostante La velocità Non riesce a raggiungere Il pallone Mentre Minici Si esprime Con un duro rimbrotto Nei confronti Di Papaleo E questo è importante Perché significa Che il Monasterace Ci sta mettendo La grinta Del suo portiere La voglia Per mantenere Comunque un risultato Che quando sono trascorsi 18 minuti di gioco È ancora Sullo 0 a 0 Scambio tra Pilato E De Luca E poi ancora De Luca Che controlla Ma viene anticipato Da Mellace Poi di testa Cannistrà Suggerimento In favore Del numero 11 Galati Però da parte Di Domenico Voci Galati si accentra Tenta un tiro Improbabile Ma comunque Anche in questo caso Bisogna apprezzare La volontà Del giocatore Soprattutto sul fronte Di attacco Di sinistra Che il Monasterace Sta poi Accentrandosi Però sta producendo Quelle che sono Le azioni Più pericolose Pericolose Ed ecco che recupera Il numero 4 Guido A anticipare Paparazzo Il lancio Lungo in profondità Per Galati Vede quest'ultimo Superare solo Per un attimo Cannistrà Che poi appoggia Per Fiorentino Ma è ancora Il Monasterace Che diventa A sua volta Tambureggiante Il tocco all'indietro Per Guido Lo scambio Con il numero 8 Papaleo Che punta L'avversario Mette in mezzo Un pallone Insidioso Che però finisce Direttamente Direttamente Sul fondo E si riprenderà Con un calcio Di rinvio Già effettuato Dal Lombardo Bassi De Masi Per Ienco Inseguito Da Chiodo Il tocco Al centro Viene ancora intercettato Da un ottimo Guido Che ruba palla Ma di fronte a sé L'Ailander Armando Mellace Il tocco poi Alla fine Favorisce Il portiere Attenzione Il portiere Lombardo Che ha preso La palla Con le mani Mimmo Cosa è successo? Poteva prenderla? Diciamolo solo Tra noi No Non poteva prenderla Anche perché È stato proprio Un passaggio All'indietro Non è che è stato Involontario Il passaggio Verso il portiere E allora Bacchettata Rocco Marchesano Nella sezione Di Taurianova E applauso Anche ai giocatori Del monasterace Che comunque Non hanno Protestato Più di tanto Perché si sa Sul campo Si gioca a pallone E non si pensa A contestazioni O altro E ancora Ienco Che recupera Un pallone Che rubandolo A chiodo La palla La palla viene poi Scaricata Verso Bassi De Masi Per Mellace Ancora Bassi De Masi Il tocco E per Cannistra E ancora Bassi De Masi Un dialogo Molto interessante In fase di impostazione Marco Voci Arretrato Per Cannistra Apertura Per Fiorentino A di fronte a Segalati Scambia con Domenico Voci Stavolta Il campo Il campo È finito E Cosa si annota Quando si sbaglia Un passaggio Maurizio Palla persa Semplicemente Palla persa Comunque I dati ci dicono Che quasi tutto Il gioco Si svolge Nel metà campo Del Monasterace C'è solo Un cross Quello effettuato Pochi minuti fa Dalla parte Sinistra Del Monasterace E basta E notiamo Che il tasto Palla persa Sul computer Di Maurizio Vatrano È un tasto Praticamente Usato pochissimo Per quanto riguarda Il Montepone Intanto attenzione Perché C'è stato un calcio Sulla caviglia Di Mellace E la palla Appunto Viene fermato Il gioco viene fermato Perché per permettere I soccorsi A Mellace Che è rimasto Appunto Per terra Si riprenderà Quindi presumibilmente Con una punizione Quando siamo Al ventiduesimo minuto Di gioco Ed entrano anche I sanitari Salutiamo anche Vediamo Non possiamo fare il nome Ma c'è anche Un osservatore Del Renate Che è Diciamo Un collaboratore Del Renate Che è qui in tribuna E che sicuramente Sta guardando qualcosa Anche se la squadra Di Meda Probabilmente Attingerà più Nella Lombardia O nella Monza Brianza Che è qui in Calabria Quindi salutiamo Anche l'amico Che abbiamo intravisto Ora in tribuna Vediamo Vediamo intanto Che i sanitari Si stanno occupando Di Armando Mellace E allora È il momento giusto Per chiedere A Giuseppe Ranieri Quale potrebbe essere L'opzione Invece Del monasterace Per diventare Pericoloso Nei confronti Del Monte Paolo Ma l'unica Abbiamo visto Sulla tre quarti Guido Guido che intercetta bene Prende il tempo Però manca L'inserimento giusto Dell'attaccante Anche perché Ci sembra che De Luca Si è un po' Isolato In avanti Ma sicuramente Intanto Mentre si stanno Ristorando A bordo campo I giocatori Del monasterace Si prolungano Le cure Per Mellace Che probabilmente Ha ricevuto Un colpo duro Perché sappiamo Per tempra E capacità agonistiche Sicuramente Non si butta giù Facilmente Il numero quattro Della squadra Di mister Pisano Che infatti Si è rialzato Quindi vediamo Che riprenderà Probabilmente Il gioco Anche se Dopo l'intervento Dei sanitari Probabilmente Deve uscire Dal campo Per poter poi Rientrare Su segnalazione Dell'arbitro Quindi Il pubblico Soprattutto Quello del primo anello Saluta Con un applauso Mellace Che sta guadagnando Appunto L'esterno Del campo Però Riteniamo Che non ci siano Alle viste Le possibilità Di sostituzione Perché Mister Pisano È fermo E sta scrutando La condizione Del suo calciatore Mente Del centrocampo Anche se A centrocampo Nel Montepaone Pensano Un po' tutti Sarà Cannistrà A riprendere A riprendere Questa Partita Con un calcio Di punizione Che scarica Direttamente Su Bassi De Massi Mentre un timido Raggio di sole Riscalda Questo nostro Freddo Pomeriggio Dicembrino Qui al Frabotto Mannis Di Montepaone E ancora Cannistrà Dialogo Con Lombardo Addirittura Fuori Dall'area Di rigore Libero Aggiunto Secondo Lo schema Di mister Pisano Ancora Cannistrà Ancora Lombardo Con Lo schieramento Stavolta 4-4-2 Da parte Del Monasterace E come al solito Dopo aver parlato Bene Dei piedi Di Lombardo Li abbiamo portato Male Perché il lancio Invece È stato Impreciso Ed è finito In out Sarà Gaetano Effettuare Questa rimessa Laterale Verso De Luca Ma l'intervento Di Capitan Paparazzo Interrompe La trama Offensiva Della squadra Ospite Con una seconda Rimessa Affidata Appunto A Gaetano Gaetano Per il numero 4 Guido Che controlla In maniera elegante Protegge il pallone Ma gli viene rubato Nel momento in cui Viene triplicata La marcatura Domenico Vosci Appoggia per Marcellino Ha di fronte a sé Scarano Evitato Scarano Ma non sarà Il numero 3 del Monasterace A evitare Il cartellino Giallo Che noi subito Annotiamo Marchesano Con decisione Estrae il cartellino Giallo E a questo punto Chiediamo a Giuseppe Ranieri Sul monitor di servizio Se è visto bene Il fallo Ma sì Il fallo Lo abbiamo visto Lo abbiamo visto tutti Discorrevamo prima Con Cosentino Con Mimmo Non era da ammunizione Era uno scontro Tra i due In corsa Ma non era da ammunizione E li vedete Sono seduti in tribuna VIP Tribuna stampa VIP E discorrono anche Fra di loro Mi hanno proprio Lasciato solo Qui vicino a Maurizio Vetrano Che peraltro Fuma Però qui L'impianto Che elimina il fumo È funzionante Intanto il colpo di testa Vede Domenico Voci Con De Luca Che recupera palla Solo per un attimo Ancora il colpo di testa Di Scarano Tocco in profondità Bassi De Masi Lancio Probabilmente In fuori gioco La posizione di Marco Voci Sì per qualche Centimetro C'era È partito Dietro le spalle Di Tassone Giusto il fischio Di Marchesano La sezione di Taurianova Che si presenta qui Con uno dei suoi arbitri Di punta E Minici Che scarica In direzione Di Galati Che tocca poi Verso Pilato Sportellate Con Mellace Però poi Guido Lascia partire Un suggerimento In profondità Per Galati Mentre Marchesano Ha lasciato correre Appunto Una serie di scontri Molto maschi E si riprende ancora Con il Montepone Che tesse la sua tela Con Bassi De Masi Che si appoggia Per Canistrà Mellace Canistrà Si gioca un tocco Ma si gioca Con calma Per poter poi Trovare la giusta Trama offensiva Trovare gli spazi E le linee di passaggio Così come vuole Mister Pisano E ancora Canistrà Che recupera il pallone Alza la testa E poi lo tocca Per Marcellino Che gli restituisce la palla Questi tocchi Permettono di tirare fuori La difesa del Monasterace Che però Muovendosi con rapidità Riesce subito A recuperare la posizione Soprattutto grazie al pressing Di De Luca E Pilato E Paparazzo Che controlla Per Bassi De Masi Lancio in profondità Perienco Che se ne va di testa Ma chiude molto bene Messineo Con Chiodo Che scivola E Bassi De Masi Che recupera Appunto Il pallone Vi confidiamo Che nella fase Di riscaldamento Abbiamo visto parlare A lungo Mister Pisano Con Maurizio Vatrano Perché probabilmente Parlavano proprio Del fondo Un po' Infido Qui del Frabbotto Mannis O parlavate Di donne Maurizio Più la seconda Funzione Diciamo che Le condizioni del campo Sono sempre Ben note In quanto Durante tutta la settimana Si allenano Su questo terreno Quindi E' inutile Continuare a parlare Delle condizioni Appunto Del Mantelboso Perché è quello che è Sappiamo benissimo Che ci vuole Molta protezione E molte spese Attenzione Scusami Torna molto bene Ienco A chiudere Su Chiodo Che sul lancio In profondità Si era lanciato Verso la porta A sua volta E poi Ienco Mette La palla Rimessa laterale Dicevi Maurizio E ribadivo sul fatto Che in molti campi In cui siamo stati Questi In Mantelboso Difficile Trovarne qualcuno In buone condizioni Il migliore Sicuramente Quello di Chiaravalle Ma questo E' ben Giustificabile In quanto Mantenere Un Mantelboso In buone condizioni Implica Spese E lavoro Non indifferente E intanto C'è una punizione E' stata chiesta La distanza Perché Marchesano Ha tirato fuori Il fischietto Ha detto Allora conto io Dal nostro monitor Sono esattamente 9,17m La distanza E sarà Galati A calciare Con il destro Inserito Nelle sue scarpette E bianche Questa punizione Con paparazzo In barriera E c'è una sorta Di trenino Che viene fatto Dai giocatori Del monasterace Quindi si tratta Di uno schema Seguito a sua volta Da un altro treno Quello dei difensori Del Monte Paone Qualche spintone Ma soprattutto Marcamento Rigorosamente A zona Parte La parabola Colpo di testa Attenzione C'è stato il gol Quando siamo Al trentesimo minuto Interviene Con un tocco Messineo Sul cross Di Galati E di destro Sorprende Sull'angolo Alla propria sinistra Lombardo E quindi Annotiamo Al trentesimo minuto Di gioco Con l'esplosione Di giubilo Di tutta la panchina Del monasterace Messineo Che ha segnato Al trentesimo Del primo tempo Un gol Importante Praticamente È stata la prima volta Che il Monte Paone Si è presentato All'interno Dell'area di rigore Che il monasterace Si è presentato All'interno Dell'area di rigore Del Monte Paone E ha colpito Con decisione Il numero 5 Messineo Di destro In corsa E un tiro In quel momento Per la rapidità Dell'azione Imparabile Per il portiere Lombardo Riparte il Monte Paone Con il monasterace Che praticamente Ha interpretato Benissimo La partita difensiva Riuscendo a colpire Al primo spazio utile Lasciato Dalla difesa Del Monte Paone E vediamo Che Gaetano Si scontra Fisicamente Con Ienco La palla finisce In rimessa laterale Ma sicuramente E questa è la partita Che aveva disegnato Mister Regolo Ora che siamo Al trentunesimo minuto E il monasterace Si trova in vantaggio Dialogo Tra Chiodo E Marcato da Domenico Voci E la palla Finisce in rimessa laterale A questo punto Sarà necessario Uno sforzo Anche psicologico Del Monte Paone Finora Molto compassato Nell'impostare La propria azione Che è stato punito Praticamente Alla prima azione Pericolosa Da parte del monasterace Riparte ancora Lombardo Lancio a cercare Ienco Che di testa Prolunga Per Marco Voci Parte in velocità Il numero 5 Messineo Autore del gol Che appoggia Per Minici Che alza una parabola Che finisce Sulla testa Di Bassi De Massi Recupera ancora Mellace Attenzione Perché Gaetano Con grande decisione Interviene sulle spalle Alle spalle Di Mellace E conquista La seconda Ammunizione In questo caso Giustissima La segnalazione Da parte Dell'arbitro Il signor Marchesano Però è anche Un segnale Di grande Spinta psicologica Del monasterace Che a questo punto È in vantaggio E anche nei giocatori Si nota La volontà Di continuare Su questa falsa riga Vero Giuseppe? Chiaro che l'effetto Psicologico positivo Sortito dal gol Ha animato Tutto Tutto l'organico In campo Del monasterace Ma commentavamo Il brutto fallo Subito da Mellace Questa ginocchiata Sui reni Però va anche detto Come il Montepone Ha prodotto tantissimo Per circa 20 minuti Ma alla fine Un solo colpo Di Messineo È riuscito a rompere L'equilibrio È un po' La dura legge del gol Come diceva Max Pezzali Praticamente Fai un gran bel gioco Però Alla fine Gli altri segnano Ma non è ancora La fine Il calcio è bello Anche per questo E il Montepone Sicuramente Saprà riorganizzarsi Per portare l'attacco E a questo punto Segnare almeno due gol Al monasterace Senza subirne Parte ancora Scarano La palla finisce Nella zona Del numero 11 Galati Interviene Bassi De Massi Che di sinistro Cerca di innescare Procopio Stop di petto Procopio Asportellate Lotta molto bene Con Tassone Ma poi esce fuori Ancora Il monasterace Per un attimo Con Mellace Che recupera la palla Domenico Voci Per Fiorentino A di fronte a Segalati Si libera Ragiona Toccando all'indietro Per Cannistrà Cannistrà Chiama in causa Lombardo È il momento Di ragionare In campo Di non farsi prendere Dalla foga E portare avanti Il baricentro E la propria squadra Bassi De Massi Intervento di Gaetano Che mette la palla In rimessa laterale Con il numero 6 Del Montepone Che cedele Per la rimessa laterale Il pallone A Ienco Vediamo che appunto Ienco Si prepara alla rimessa Tutti i marcati I giocatori del Montepone Intervento di Chiodo La palla finisce La zona di Pilato Mellace Ancora si combatte Tra Domenico Voci E Pilato Alla fine Pilatescamente Marchesano Assegna la punizione Alla squadra Che difendeva In questo caso Si tratta Del Monasterace Vediamo anche Paparazzo Che richiama alla calma I suoi compagni Perché appunto Siamo ancora Al 34esimo Quindi c'è da giocare Almeno per un'altra ora E quindi sarà necessaria Grande calma Nello strutturare Le azioni Da parte del Montepone E Minici Che lancia Verso Chiodo La palla è lunga Con Ienco Che alla fine Disturbato Da Chiodo Tocca la palla Tocca la palla Ad uscire Con il Montepone Che si schiede a zona Ed è molto bello Vedere questo schieramento La palla arriva Al centro dell'area Attenzione Perché era salito Il numero 6 Tassone E per poco Non eludeva La marcatura Dei giocatori Del Montepone Era venuto Alle retrovie Proprio Tassone Il capitano E là per poco Non ha impattato Il pallone Tocco di Procopio Per Marco Voci Molto bravo Messineo A recuperare la posizione Completare la diagonale E mettere la palla In rimessa laterale Ma è un altro Montepone Quello che stiamo osservando Un Montepone Motivato Trascinato Da Salvatore Procopio Marco Voci Tocco verso Marcellino Recupera ancora Marco Voci Entra in area Paparazzo Shot Di destro Il pallone Però finisce lontano Dalla porta difesa Da Minici Però sicuramente Qualcuno sta suonando La carica Tra le fila Del Montepone E vediamo ora Che Minici Con calma Si appresta appunto Al rinvio Vediamo che Calcerà come di consueto Di destro Cercando di lanciare Lungo Oltre la metà campo Il pallone Viene intercettato Da Mellace Poi da Domenico Voci Che tocca per Paparazzo Grande apertura Per Marcellino Che non riesce Da par suo Di solito Una cosa facile Ma non lo era assolutamente Non riesce a bloccare Il pallone Con uno stop In corsa E la palla Viene arpionata Da Minici Che fa rifiatare La propria squadra Che in questo momento In fase offensiva Si schiera Con quattro giocatori In avanti Lo stop di Pilato Vede poi il tocco Verso Papaleo Papaleo di destro Cerca di innescare Ancora I suoi attaccanti Ma la palla Viene conquistata Dai giocatori Del Montepone Con Domenico Voci Che però perde Il Teckel Cerca di recuperare La palla Che finisce alla fine Per a Pilato Pilato si ferma Ragiona Alza una parabola La palla Arriva in una zona Dove Attenzione E per poco Il numero 7 Chiodo Molto furbo Nell'inserirsi Tra i giocatori Del Montepone Per poco Di esterno Non riesce a mettere Dentro un colpo Che sarebbe stato Da K.O. Per il Montepone E vediamo Che appunto Chiodo È riuscito A anticipare Per un attimo Bassi dei massi Ora L'arbitro Il signor Marchesano Si sta accertando Che il giocatore Del Monasterace Sia in piena forma Viene tirato su Da Lombardo Quando siamo Al 37esimo minuto 18 secondi Il risultato Vede il Monasterace In vantaggio Qui al Frabotto Mannis Per una rete a zero Con Lombardo Che scarica Verso Ienco Stop di petto Ancora Chiodo Che gli va a dare fastidio Si appoggia Per Bassi dei massi E poi ancora A Lombardo Lombardo a sua volta Per Cannistra E tutto il Monte Paone Si dispone Armonicamente Sul rettangolo di gioco Il tocco però Di Domenico Voci Non favorisce Il ritorno di Fiorentino E quindi toccherà Al Monasterace Nella persona Di Scarano Di riprendere Appunto Il gioco Con la rimessa laterale Giuseppe È stato È stato un duro colpo Quello Inflitto Dal Monasterace Forse Il Monte Paone Non si aspettava Un gol così Che non si può Neanche definire A freddo Perché è arrivato Alla mezz'ora No È quello che noi Abbiamo sempre detto Dall'inizio del campionato Produrre 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 Ma alla fine Bisogna fare gol Perché il calcio È così Perché le squadre Poi vengono fuori Sornione Dalla difesa Il calcio È fatto di eventi Un gol Ha risollevato Il morale Degli ospiti Che adesso Stanno conducendo Un'ottima gara Ecco che la palla Finisce al numero 12 Lombardo Ancora per Cannistra E poi per Bassi De Masi Un dialogo per iniziare Appunto l'azione Paparazzo Bassi De Masi Notiamo che il pressing Del monasterace È molto articolato Con le due punte In questo momento De Luca E Pilato Che fanno un movimento Elastico Per poter andare A disturbare I due centrali Del Monte Paone E ci riescono Perché la palla Intanto non arriva A destinazione Finisce in out Per la rimessa Che sarà di competenza Ancora di Scarano A cercare appunto De Luca Che stoppa la palla Viene chiuso Da Cannistra Poi è Mellace Ma si inserisce ancora Un ottimo guido Che controlla la palla A sua volta la scarica Per Pilato Che cerca di andarsene In velocità Ma sono in tre I giocatori del Monte Paone A chiudere queste Velleità offensive Del monasterace Ancora Bassi De Masi Che fa un tunnel Non si sa Quanto cercato Quanto fortunato Nei confronti Di Chiodo E poi Marco Voce Sulla sinistra Ancora Perienco Che arriva in velocità Non riesce a controllare Il pallone E la palla Una volta non riuscito Il primo controllo Finisce sul fondo Per una rimessa Che Minici Accelera nei confronti Di Gaetano Riceve palla Il numero due Del monasterace Lancio A cercare De Luca Stop di quest'ultimo Che protegge la palla La scarica Poi per Pilato Sono quattro contro due In questo momento Bassi De Masi Anticipa Chiodo Ma è ancora Guido Che protegge la palla Con Marco Voci E Ienco Che però intervengono Mettendo in out La spera In questo momento È scattato Il quarantesimo minuto Del primo tempo Il risultato Vede per il gol Al trentesimo Di Messineo In vantaggio Il monasterace Sul Montepaone Con Guido Che ancora recupera Palla Larga per Scarano Che a sua volta Probabilmente Innescherà Galati Che raccoglie il pallone Scambia con De Luca Arrivano al centro Dell'aria Guido Cerca di far filtrare Il pallone Ma è ancora Marco Voci Che colpisce i test Per Procopio Anticipato da Messineo E la cerniera difensiva Costituita da Messineo E Tassone Sicuramente Risulta essere Molto importante Il colpo di testa A favorire ancora Però Tassone Scarano E si dialoga Tra il numero 3 E il numero 6 Del monasterace Con Minici Che poi rilancia Rubba palla Il Montepaone Domenico Voci S'allarga per Marcellino Sulla destra Tenta il cross Mette in mezzo E Tassone Chiude lo spazio Aereo Con un colpo di testa Che dà il secondo Calcio d'angolo Al Montepaone Che sta incominciando Di nuovo A stringere Nella propria metà campo Il monasterace Il calcio d'angolo Sta per essere battuto Vediamo Domenico Voci Che è sul Traiettoria Anzi no Si tratta di Fiorentino Che chiede la giusta distanza Da parte di Galati Scambia poi con Mellace Che dà ancora a Fiorentino Che mette in mezzo il pallone Guido Colpo di testa Favorisce Chiodo La ripartenza del monasterace Fermato da un ottimo Ienco Chiodo Ienco mette la palla In avanti Supera due avversari Viene chiuso Dal ritorno di Chiodo E ci sarà ancora Calcio d'angolo E qui sul settore sinistro Che probabilmente Grazie a una prestazione Sino ad ora Maiuscola Di Ienco Il Montepaone Potrebbe raccogliere Maggiori soddisfazioni Con i giovani Raccattapalle Della scuola calcio Che appoggiano proprio Il pallone Per Mellace Che come al solito Guadagna qualche centimetro Rispetto alla lunetta Del calcio d'angolo Si prepara appunto il movimento Marca uomo Il monasterace Parte la parabola Colpo di testa Tentato Da Procopio E c'è stato Messineo Ad anticiparlo Proprio all'ultimo momento Un po' come ha fatto Ieri sera Perisic Con Quadrado Togliendo la palla Togliendo la palla Dalla testa Di Procopio E ancora Un calcio d'angolo Il quarto Con Domenico Voci Che si prepara Alla battuta Mellace Che si avvicina Per il consueto schema E Marco Voci Defilatissimo Quasi a bordo campo Il tocco è per Fiorentino Arriva il cross La palla Non viene controllata Da nessuno Bassi De Masi La rimette in mezzo E Procopio La toglie Dal destro Di Marco Voci E probabilmente Non si sono intesi I giocatori Intervento difensivo In questo caso Il Salvatore Procopio Sì Non sapeva Che dietro C'era il compagno Pronto a tirare voci Non si è chiamato La palla Per cui Procopio Ha cercato la deviazione Quarantatresimo minuto Del primo tempo Montepone 0 Monasterace 1 Rilancio di Minici Che supera Come di consueto La metà campo Colpo di testa Di Cannistra E ancora Guido Molto preciso Il lancio Per lo scatto Di Galati Che commette fallo Nel rubare palla A Fiorentino Che aveva coperto Col fisico Appunto La traiettoria Della palla stessa E quindi si riprenderà Con una punizione Montepone Che probabilmente Cercherà L'arrembaggio finale In questa parte Terminale Del primo tempo Con Bassi De Masi Mellace Apertura ancora Per Bassi De Masi Mentre incomincia A partire Ienco Lancio a cercare Voci Ma c'è Gaetano Che fa Buona guardia Fa impennare la palla Il colpo di testa Poi favorisce De Luca De Luca All'altezza del centrocampo Supera appunto Quest'ultima E tocca poi Verso il numero 10 Pilato Chiuso Col fisico Da Cannistra Che poi scambia Con Mellace Riceve probabilmente Un colpo Mentre la palla Andava via Da parte di Pilato Rimane per terra Anche se fuori dal campo Mentre Pilato Si va a scusare Quindi Fair play Anche se gioco Nettamente Maschio Tra le due squadre Come del resto È giusto che sia Si prepara appunto Domenico Voci Cannistra Rimane fuori campo E quindi in questo momento Il Montepaone Gioca in 10 Anche se Cannistra Si sta per riprendere Mellace Riceve da Bassi De Masi Torna anche Marco Voci A recuperare il pallone Lo riceve Controlla la sfera L'appoggia ancora Per Mellace E dialogo Con Bassi De Masi Vedremo ora Se darà recupero Il signor Marchesano Quando mancano 20 secondi Alla fine Del tempo regolamentare Per quanto riguarda La prima frazione di gioco Il tocco è verso Marcellino Che controlla Intervento decisissimo Di Galati E ci sarà punizione In favore del Bonasterace Che certamente Gioca con il dovuto Agonismo Il tocco è per Bassi De Masi Che riceve palla Avanza Sfruttando una zona Di campo vuota Tocca per Rienco Che evita per un attimo Chiodo Che però poi Mette il piede E siamo giunti Al 45esimo minuto Come di consueto Marchesano Come molti suoi colleghi Non ci ha segnalato Nello ha detto Al nostro coordinamento Giornalistico Quanto ci sarà di recupero Procopio Si gira Mette in mezzo Ed è ancora calcio d'angolo Quindi ancora una chance Per il Montepaone Mentre annotiamo Il quinto calcio d'angolo Di questo primo tempo Con Mellace Che si prepara a battere Tutto il Montepaone A eccezione di Ienco Ultimo uomo Che si lancia Nell'area Del Monasterace In vantaggio In vantaggio per 1-0 Scarano Si chiede all'arbitro Dove deve battere La rimessa laterale Il tocco è per Fiorentino E il signor Marchesano Visto il tempo Manda tutti negli spogliatoi A prendere un tè caldo Quando sono trascorsi 45 minuti di gioco Qui al Frabotto Manni Il Monasterace In rete al trentesimo Con Messineo E in vantaggio Sul Montepaone Per 1-0 E noi ci apprestiamo Insieme a voi Tutti insieme A vedere questo secondo tempo Che sicuramente Sarà ricco di spunti E di possibilità Di entusiasmarci Come sempre A tra poco Ricevitoria Gerace A Monteponelito Da noi puoi giocare Super R8 Totogol Totocalcio Trist giornaliere E Win4Life Ogni ora Agenzia autorizzata Per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche Pagamento bollette Dal 1975 Al tuo servizio Ed in attesa Della tua giocata Vincente Puoi consumare Un gustoso aperitivo Nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo In via Padre Pio A Montepone Ritavo Su di noi Puoi scommetterci Sentite spettatori Di S1 TV Bentornati Alla visione Per il secondo tempo Di Real Montepone Monasterace La prima frazione Di gioco Si è conclusa Con il vantaggio Del monasterace Siglato al trentesimo Il primo tempo Da Messineo Quindi Montepone 0 Monasterace 1 E la squadra esterna 65 Di S1 TV Con Antonio Siciliano Pasquale Lentini Giuseppe Ranieri Maurizio Vatrano Adele Chiaravallotti Come coordinamento giornalistico Che vi invita Appunto a proseguire La visione Di quella che è una partita Che come si diceva Anche qui In tribuna stampa Sicuramente ci darà Delle grosse emozioni In quello Che sarà il secondo tempo Ma la prima emozione Qui dobbiamo condividerla Con tutta tribuna stampa E capire se ci sono sostituzioni Non sbagliare Come a volte mi è capitato Ma dovrebbero essere Tutti gli stessi giocatori Vediamo che il monasterace Non ha effettuato sostituzioni E quindi Mister Regolo Mette in campo Minici Gaetano Scarano Guido Messineo Tassone Chiodo Papaleo De Luca Pilato Galati Dall'altra parte Ancora non sono tornati Tutti i giocatori Del Monte Paone Che in questa seconda frazione Di gioco Con la sua casacca Righe orizzontali giallo-verde Calzoncini gialli Con inserti verdi E calzettoni gialli Attaccherà appunto Da sinistra verso destra Rispetto a quella Che è la posizione Della tribuna stampa Abbiamo visto a lungo Riscaldarsi Pirritano Che probabilmente Sarà mandato in campo Da mister Pisano Le notizie Dell'intervallo Sono due Un pronostico Come un Silent var Di Mimmo Cosentino Che ha detto 3 a 1 E quindi noi ce lo segniamo Per vedere se poi Alla fine avrà ragione E il fatto che Maurizio Vatrano Ha coinvolto Nel fumo Delle sigarette normali Anche Giuseppe Ranieri Che invece di solito O non fuma O non usa più Quel tipo di sigarette Vero Giuseppe? E abitualmente ormai no Però Tra il primo e il secondo tempo Ho gustato Una sigaretta E quello di Maurizio Vatrano Che è una Come con la mela Di Biancaneve L'ha coinvolto In una cosa Peccaminosa Maurizio Un pronostico Da parte tua Non so se Continuare a fare Pronostici Visto che Prima della partita Avevo comunque Pronosticato Un Montepaone Che non subirete Invece Puntualmente Smentito Quindi non so Se sbilanciarmi Per questo secondo tempo Spero almeno Spero almeno Una reazione E che Tutti L'amore di gioco Prodotta Sia finalizzata Intanto Noi facciamo partire Anche il nostro Cronometro Con la palla Che arriva subito In area di rigore Ma viene calciata via Dai giocatori Del Monasterace Anche perché è vero Qui a Montepaone Aveva segnato Soltanto il Mammola E quindi È la seconda rete Casalinga Che viene subita Dal Montepaone Che praticamente Ha subito In casa Soltanto un gol Due con quello di oggi E sei Invece In trasferta Ma entriamo subito In telecronaca Con Gaetano Che rinvia Un po' Lontano E Cannistra Che colpisce I testa Una palla Che finisce Appunto A lato Con rimessa laterale Che sarà ancora Di competenza Del Monasterace Quindi nessuna sostituzione Anche nel Montepaone Che schiera Lombardo Fiorentino Ienco Mellace Cannistra Bassi De Masi Paparazzo Marco Voci Procopio Marcellino E Domenico Voci Attenzione Al lancio In profondità Verso Galati Chiuso da Fiorentino La palla finisce A Marcellino Che protegge il pallone Dall'attacco di Scarano Il lancio poi E per Domenico Voci Controlla di destro Si accentra Movimento di Marco Voci Che riceve palla E probabilmente C'era il fuorigioco Qui serve l'intervento Della Var Però mi pare Giuseppe Che Mimmo Cosettino Abbi ha detto Fuorigioco prima Sì sì No 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 Il fuorigioco C'era prima Per cui non c'è Nessun calcio di rigore E ricordiamo Che per sedersi Nella tribuna Stampa VIP Giuseppe Ranieri Ha fatto spostare Tutti i nostri monitor Sia quello della Var Sia quello di servizio Rimessa laterale In favore del Monte Paone Quando siamo giunti Al primo minuto E 40 secondi E la battuta Appunto Saradie Invece in favore Del Monasterace E c'è l'arbitro Che appunto Prende questa decisione Cambiando E rovesciando Appunto Quello che sembrava Già assodato La palla viene riconquistata Da Mellace Tocco per Bassi De Masi Che tocca ancora A sua volta Per Canistrà Che evita Il ritorno Di Pilato E si affida Poi a Lombardo Che avanza Sta per uscire Dall'area di rigore E poi tocca ancora Per Canistrà E il Monte Paone Riprende appunto La sua trama offensiva Che parte Sin dai centrali difensivi E questo è Bassi De Masi Che allarga appunto Ancora per Canistrà Domenico Voci Va a recuperare La palla Nella propria tre quarti Scambia ancora Con Canistrà Mentre arrivano anche Folate di fumo Dei fumogeni Degli ultras Del primo anello La palla però Ancora conquistata Dal Monasterace Il tocco E per lo scatto Di Galati Lo ferma con eleganza E possenza Canistrà Che poi dà A Marcellino Intervento decisissimo Da parte di Papaleo E ancora il Monte Paone Che viene un attimo Presso in contropiede Dalla foga agonistica Ma anche dalla rapidità Dei giocatori Del Monasterace Che sembrano Apparentemente Correre di più Mentre il Monte Paone Fa correre di più La palla Bassi De Masi Innesca Ienco Che parte in velocità Di fronte a sé Gaetano Che controlla la palla La protegge Poi alla fine Cerca di evitare Il ritorno di Ienco E ci riesce Ed esce palla al piede Il tocco però Viene ribattuto E ci pensa poi Messineo Anzi Si trattava di Guido Guido appunto A mettere la palla In rimessa laterale Vediamo Anzi Era proprio Messineo L'autore del gol L'avevamo riconosciuto Al primo colpo La rimessa laterale Favorisce ancora Il tocco del Monte Paone Entra in velocità Domenico Voci Ma viene chiuso In calcio d'angolo E quindi Il sesto calcio d'angolo Della partita Il primo del secondo tempo Per il Monte Paone Che praticamente Si ribalta In attacco Con tutti gli effettivi Nell'area di rigore Ad esclusione Di Bassi De Masi E Domenico Voci Che restano appunto Guardia del centro campo Sarà Armando Mellaci A colpire di destro Con Domenico Voci Che entra Attenzione C'è stato Domenico Voci Palo Il tiro E poi Procopio Che Risorto dal colpo Che aveva ricevuto Ma Molto bello Il tiro di destro Di Domenico Voci Che ha preso appunto Il palo interno E poteva essere Un gran gol Perché si è allontanato E poi è tornato in aria Mentre c'è ancora qualcosa Che si dicono Papaleo e Procopio Vediamo come Riterrà di intervenire Il signor Marchesano C'era stato probabilmente Un contatto Un po' ruvido Con Procopio Sul calcio d'angolo Di Mellace Si è inserito In aria di rigore Partendo da lontano Domenico Voci E si riprenderà appunto Con un calcio d'angolo Che sarà battuto Da Fiorentino Dalla panchina Del monasterace Appunto Richiamano i giocatori A maggiore attenzione E controllo Si riparte Con Mellace Ma un attimo Perché Marchesano Ritiene che non ci siano Gli estremi Per ricominciare A giocare E quindi ancora Ci sarà lo schema Che vede coinvolti Fiorentino Mellace E Domenico Voci In aria di rigore In aria di rigore Ancora tutti i giocatori Con addirittura Lombardo Che è all'altezza Del centrocampo Mellace C'è Marchesano Del monasterace Del monasterace Vediamo E alle viste Quando siamo Al sesto minuto Del secondo tempo L'ingresso Di Fraietta Giocatore Di prestigio Che noi conoscevamo Se non andiamo errati Da quando era Un fuori quota Nel badolato Vediamo Al posto di chi Entrerà Fraietta Entra al posto Di Chiodo E quindi Al sesto minuto Di gioco Del secondo tempo Annotiamo La sostituzione Di Chiodo Con il numero 17 Fraietta Quindi una mossa Tattica Mentre siamo Ai 21 metri Di distanza Dalla porta Difesa Da Minnici Con una punizione Sì appunto Esce Chiodo Ed entra Fraietta Dicevamo Mellace Che cercherà Di calciare Ha già il piede Sulla palla Quindi non si discute E competenza Di Mellace C'è Papaleo Che ritiene Che vada Messa un po' più Indietro E si recuperano Così 10 centimetri Mellace Ne recupera Altri tre Siamo praticamente Proprio A un livello Di precisazione Forse eccessivo Sarà Mellace Che Chiede a Marchesano Di controllare Appunto la distanza Sposta per un altro Centimetro La palla E conta i passi Un po' come modello Pjanic Nella Juventus Non sono 9 metri e 15 9 metri e 10 Al nostro monitor Si prepara a battere Mellace Minici Ha stabilito Appunto La copertura Sul palo Non di sua competenza Si va a piazzare Si va a piazzare Sul proprio palo Parte Mellace Gran tiro di Mellace Minici dice no La palla rimbalza Procopio Colpo di testa Domenico Vosci Attenzione C'è stato Un fuorigioco Il colpo di testa Era stato di Marco Vosci C'è accesa una mischia Al centro Dell'area piccola Del portiere Del monasterace Ma nessuno è riuscito A ribadire in rete La corta respinta Di Minici E a questo punto Minici con calma Si appresta al rinvio E qui vedo Sia il quotidiano del sud Della persona Di Mimmo Cosentino Che la gazzetta del sud Della persona Di Giuseppe Ranieri Che annotano 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 E' una lunga storia E si continuerà Per altri 40 minuti E beh E' stata un'azione Roccambolesca Ancora una volta Vicini al gol Ma non si riesce A buttarla dentro Il colpo di testa Di Fiorentino Porta la palla In rimessa laterale E sicuramente Sarà Scarano A prepararsi E effettuare La stessa Perché siamo Nella sua zona Di competenza L'esterno basso Di sinistra La rimessa Viene deviata Da Marcellino In rimessa laterale E riprenderà Ancora il Monasterace Con questa rimessa Il pallone E' stato offerto In questo caso Da mister Pisano Ed ecco che Scarano chiede Se la posizione è giusta Cerca di servire Un compagno Recupera Intanto il numero 10 Pilato Cerca il tiro Si distende Sulla propria destra E blocca con sicurezza Sulla propria sinistra E blocca con sicurezza Lombardo Il tiro non era imparabile Ma sicuramente scagliato Con decisione Da parte del giocatore Il Monasterace Domenico Voci Che si appoggia ancora Per Lombardo Lombardo Che alza la testa Ma viene subito Contrato dai giocatori In questo caso Ienco Del Montepaone Che poi scambia E si libera Con Bassi De Massi Ancora per Lombardo E probabilmente Il lancio lungo Sarà a favorire Fiorentino Stop come di consueto Elegante Dell'esterno basso Del Montepaone Che poi va giù Spinto da Galati Giusta la segnalazione Della punizione Da parte Dell'arbitro Con Marchesano Che fa valere La propria personalità Nei confronti Di Galati Ammonendolo E qui Dovremmo chiedere A Mimmo Cosentino Probabilmente Gli ha voluto Far pagare qualcosa Che era accaduto In precedenza Mimmo Perché se no Qui non c'erano Forse gli elementi Per ammonire L'aveva lasciato Correre prima Però adesso Al minimo tocco L'ha ammonito Tocco in corsa Di Domenico Voci Marcellino Che scivola leggermente Ancora controlla Con il suo stile Alla Ronaldo Arriva Mellace Mette in mezzo Ribattuta Da parte della difesa Con Guido E ancora De Luca Che si appoggia Il tocco in profondità E per Galati Si chiude la difesa Del Montepaone Ma recupera ancora Fraietta Appoggia per De Luca Rovesciamento di fronte Il lancio di De Luca E per Pilato Non si intendono i due E la palla Finisce sul fondo Mentre Minici Ora che stiamo Alle soglie Dell'undicesimo minuto Del secondo tempo Richiama all'ordine I suoi E Pirritano Va a sostituire Paparazzo Quindi esce il capitano Che cede la fascia A Fiorentino E fa entrare La terza punta La terza punta Esce Paparazzo Ed entra Pirritano Un uomo bomber Maurizio Matrano Tre punte Dico bene Sì adesso Per forza di cose Dobbiamo giocare Con più uomini In avanti Pirritano bomber Soprattutto nella seconda categoria Ricordiamo Quando il Montepaone Vince il campionato Tre anni fa E soprattutto Pirritano Bomber nella testa Perché ha quella mentalità Quella cattiveria agonistica Che gli permettono A volte di essere decisivo Canistra avanza Supera la metà campo Il lancio viene intercettato Però da Scarano Con il colpo di testa Che favorisce Galati Che parte in velocità E si porta la palla In rimessa laterale Mentre Anche Il Monasterace Si prepara A fare entrare Un altro giocatore Pirritano Colpisce di testa La palla finisce In out E quindi Abbiamo annotato L'ingresso di Pirritano Al decimo Del secondo tempo Al posto appunto Di Paparazzo E vediamo ancora Che la palla rimbalza E finisce però Nella zona di Fraietta Anticipato Da Ienco Il pallone Ribattuto da Scarano Ormai un Montepaone Che attacca Con Baionetta in pugno Fiorentino Controlla il pallone Lo difende Dal ritorno di Scarano Si libera Bellissimo il cross Pirritano Appena entrato E Pirritano Al dodicesimo minuto La mette dentro La mozza di mister Pisano Premiata subito Cross di Fiorentino Che scavalca Tutta la difesa Del Monasterace E Pirritano Al dodicesimo Mette in rete Il pareggio Quindi Al dodicesimo Del secondo tempo Il Montepaone Ricostruisce La sua partita E Torna appunto Ritrova il pareggio 1-1 Mentre intanto C'è l'uscita Di De Luca E l'entrata Di Calabrese Quando siamo Al dodicesimo minuto Di gioco Il risultato Ora è di nuovo In parità Con Calabrese Che ha dato il cambio A De Luca Situazione importante Questa del Montepaone Giuseppe Era molto importante Trovare il pareggio Nei primi minuti Del secondo tempo Sì Importantissimo Per un sacco di motivi Ha trovato Lo spunto giusto Pirritano Scambio azzeccato Da mister Pisano E Quindi è un pareggio Importante Pirritano Che Un tempo Chiamavamo Lo sciachiri Del Montepaone Ma che in questo caso Recupera ancora palla Non è in fuorigioco Mette in mezzo il pallone Procopio E Procopio Si aggiusta La palla Con il braccio In questo caso È giusta la segnazione Dell'arbitro Ma a questo punto Non sarà Un fatto personale Ma sicuramente Pirritano Con il suo ingresso In campo Ha rovesciato Alcuni equilibri Che sembravano Standardizzarsi Quindi Ottima la scelta Di mister Pisano Senza nulla togliere Alla Valencia Di quel giocatore Quel paparazzo Che tante volte È stato decisivo Nella storia Del Montepaone Di cui è stato anche capitano Prima di scelere ora La fascia Al Fiorentino Il pallone Viene colpito ancora Da Ienco Arriva nella zona Di Procopio Il controllo Però è di Messineo La palla Ancora si impegna Attenzione Marcellino Ha colpito Ienco È stato un colpo Involontario Però probabilmente duro Un colpo In faccia In pieno volto Con la gamba Tra due compagni Quindi sicuramente Senza cattiveria Ma sicuramente Anche doloroso E pericoloso Mimbo Cosentino Come l'hai visto Il gol di Pirritano Entra in campo E segna Pirritano gol Di solito Questo succede Nelle partite Che quando entra Un giocatore Ha sempre la meglio Infatti Pirritano Si è trovato Proprio Al momento giusto Proprio nel posto giusto E soprattutto Uno di quei giocatori Che hanno Nella grinta Nella volontà Di segnare Una delle caratteristiche Fondamentali Siamo giunti Intanto Al quindicesimo Del secondo tempo Il risultato È cambiato Montepaone 1 Monasterace 1 E ancora va lodato Il Monasterace Per come ha impostato La gara Per come ha irretito Nella sua Tipologia di gioco Il Montepaone Che è come Ancora adesso Fraietta va a disturbare Il rinvio Di Cannistra Costringendolo Appunto Alla rimessa laterale Che sarà effettuata Da Fiorentino Che con le mani Cerca di lanciare Procopio Colpo di testa Per Domenico Voci Recupera ancora Domenico Voci Sono in due Gli avversari su di lui Si tratta di Scarano E di Galati Che gli rubano palla Ancora si combatte Con Scarano Che appoggia poi Per Tassone Il rilancio è verso Fraietta Sale al piano di sopra Cannistra Ancora un colpo di testa Mette Ordine Mellace Che di sinistro Poi lancia verso Procopio Che appoggia per Pirritano Che sulle ali Dell'entusiasmo Lascia partire Un destro Importante Ma che non c'entra Lo specchio della porta Però sicuramente Un Montepaone Che è sceso in campo Con tutta un'altra testa Maurizio Tu che lo conosci Saranno state tutte rose e fiori Nell'intervallo Nello spogliatoio Con mister Pisano Certamente no Perché È l'ennesima partita Dove comunque Noi costruiamo tanto Poi Diventiamo troppo morbidi Nella loro Tre quarti E quindi tutto il gioco Che viene fatto Dalla retroguardia in poi Svanisce con Le leggerezze in avanti E intanto Noi ringraziamo Maurizio Vatrano Scivola Minici Il suo rilancio Diventa una rimessa laterale Per il Montepaone Con Fiorentino Mellace Che recuperano palla Procopio Che combatte Ormai Si incominciano Ad affilare i tacchetti Tocco per Marcellino Apertura verso Domenico Voci All'interno dell'aria Mette in mezzo Pirritano Non viene anticipato Da Guido Poi cade per terra Pirritano Ormai è un combattimento Ancora Papaleo e Pirritano Non se le mandano a dire Sicuramente Stanno ragionando In maniera Agonisticamente Tirata Ma Pirritano Mantiene la calma Chiedendo all'arbitro Un maggior controllo Sarà ora Mellace Che si prepara Si prepara a battere Vediamo che Non si fanno sicuramente Complimenti Una partita maschia Ora che siamo Al diciassettesimo E venti secondi Con Canistra Che tocca con la suola Per Mellace Appoggio per Bassi De Massi Che evita il ritorno Di Pilato Se ne va in velocità Ienco Mette in mezzo il pallone Arriva Marco Voci Che fa impennare la palla Pirritano Probabilmente Giusta la segnalazione Dell'arbitro Tocca con un braccio E Vediamo che si Si lotta Si lotta Su ogni pallone Tra Pirritano E gli avversari Perché hanno capito Che un po' Questa è stata La scintilla Che ha fatto Che ha fatto Riaccendere Il motore Del Monte Paone Batterà ora Minisci con Pisano Che giustamente Richiama Pirritano Probabilmente Per non cadere Nessuna trappola Ragiona E pensa a giocare Non accettare Provocazioni Il pallone Ancora Si impenna Con Pilato Marcato Da Bassi De Massi Che lo anticipa Ruba palla Guido Ma è anticipato Da Domenico Voci Che in bello stile Si appoggia su Fiorentino Che allarga Verso Pilato Gli si avvicina Scarano Pilato lo evita Arriva Arriva ancora Papaleo Che col corpo Anticipa Anticipa Pirritano Probabilmente In questo caso Il fallo D'ostruzionismo C'era E quindi giusta La segnalazione Di Rocco Marchesano Della sezione Di Taurianova Mentre Fraietta Gli va a chiedere Lumi Perché tutta la panchina Del monasterace Non ha accettato Questa decisione E ancora Mellace Che tocca per Marco Voci Che protegge il pallone E poi scivola Sull'ottimo intervento Di Messineo Che d'esperienza È riuscito a impedire Che Marco Voci Impattasse col pallone E cercasse di tirare In porta E ancora Bassi De Massi Che mette la palla in mezzo Con Procopio Che anticipa Tassone Il colpo di testa Finisce poi Tra i piedi di Minici E un Montepaone Che ora sta suonando La carica Sembra di essere A balaclava Con tutti i 600 cavalleggeri Che si lanciano Verso la porta Di Minici Che intanto calcia Lungo a superare La metà campo La palla arriva Su Fiorentino Colpo di testa Di Fiorentino Guido che colpisce A sua volta La palla Viene urtato In maniera decisa Da Procopio Cade per terra Giusta la segnalazione Dell'arbitro Che interrompe Il gioco Probabilmente E Procopio Che chiede scusa Al forte centrocampista Del monasterace Giuseppe Stiamo Qui Stiamo combattendo Anche tu qui in tribuna Ogni tanto mi dai qualche calcio No Non mi permetterei mai E' un match giocato A viso aperto Dopo il pareggio guadagnato Dal Montepaone La partita Ha guadagnato Ritmo Su tutti i settori Nevralgici Del terreno di gioco E Pirritano Pirritano E' un uomo di grinta Che ha rotto Quell'alchimia Ed è riuscito A rinsaldare Quel pareggio Che era tanto nell'aria E intanto Procopio Che conquista un pallone Se ne va su tutta la metà campo Ma poi E' Galati Che lo anticipa Bassi De Masi Stabilmente al centro La difesa Con Mellace Che allarga verso Fiorentino Molto bravo Scarano nell'anticipo Con Canistrà Ma viene rubata la palla A parte di Pilato A Mellace Ancora Fraietta Galati e Pilato Che dialogano E alla fine Mellace Alza la gamba E' giusta la segnalazione Gioco pericoloso Nei confronti Di Galati Che ha ancora qualcosa Da dire Nei confronti Di Mellace Sicuramente C'è un clima agonistico Che si sta accendendo Forse un tantino Esasperato Con Galati E Mellace Che chiedono Addirittura intercessione A Papaleo Che finora Non si è messo in mostra Sicuramente Come un pacere O un peacemaker Ci sarà la punizione In favore Del Monasterace Con la palla Che ancora Danza Centimetro Dopo centimetro Un po' più avanti Un po' più indietro E Marchesano Che ha difficoltà Non avendo neanche La bomboletta Spray Con la quale Segnalare La posizione La posizione Della stessa Sfera Cuiata Si prepara A battere Probabilmente Di destro Galati Che parla Con Fraietta Per quello Che può essere Lo schema Da applicare In questo caso Ci sembrano All'incirca Sette e mezzo I metri Di distanza Tra palla E barriera Come confermato Dal nostro Dal nostro video E sarà appunto Probabilmente Anzi non era Fraietta E Pilato Che stava dialogando Con Galati Parte il fischio Con Pilato Che tocca per Galati Gran tiro Di Galati Di destro Che fa un po' La barba al palo Anche se Lombardo Ha dato l'impressione Di poter essere Sulla traiettoria E quando siamo Al ventunesimo Riprende l'azione Del Montepone Con Fraietta Che va a fare Pressing Su Cannistra Che è costretto Quindi a rilancio lungo In preciso Lo stop di Guido Con Marcellino E Domenico Voci Che recuperano E Marcellino Cade per terra Vediamo ancora Con Cannistra Fraietta Che gli va a dare fastidio Il rilancio Favorisce Ienco Che però non riesce A domesticare il pallone Quindi sarà Una rimessa laterale Con Pilato Che tocca per Fraietta Elegante il dialogo Insieme con Calabrese Se ne arriva Il Montepone Trascinato Da un esuberante Cannistra Che parte Supera la metà campo Si appoggia Su Domenico Voci Che riceve palla Attenzione Perché Papaleo Ha buttato giù Per terra Cannistra Parte in velocità Ienco Che mette la palla in mezzo Papaleo recupera E riparte il monasterace Uomo a terra E quindi ci si ferma E qui dobbiamo Un attimo vedere Cosa è successo Giuseppe Tu hai notato Dal tuo monitor Stavo scrivendo Non ho visto bene E chiediamo a Mimmo Cosentino Anche tu stavi scrivendo C'è stato un contatto Tra Papaleo E Cannistra È stato Papaleo Che ha spinto Cannistra Era un calcio Di punizione C'è anche la munizione Però l'arbitro Però l'arbitro Non ha visto Molto probabilmente E ha lasciato correre E quindi È una partita Che sta diventando Anche complicata Per il signor Marchesano Di Taurianova Perché sicuramente Sull'1-1 Il Montepaone Non rinuncia Ai potenziali I tre punti Il Monasterace Non rinuncia A dimostrare Di essere una squadra Che è ben messa in campo Che può meritare Il pareggio Che si sta guadagnando Qui sul Fra Botto Mannis Il comunale Di Montepaone Minici calcia Superando la metà campo Nella zona di Fraietta Elegantissimo Lo stop di Fraietta Che poi tocca Costringendo Da una corsa all'indietro Il numero 11 Galati Ancora Fraietta Che evita un avversario Si chiude la maglia Dei tre marcatori Del Montepaone E riparte ancora Marcellino Che si gira Appoggia poi Per Lombardo Per poter dargli La prospettiva Di avere tre punte Davanti a centro campo Il colpo di testa Di Papaleo Ancora Fraietta Fraietta controlla Danza sul centro campo Evita il ritorno Di Mellace Ma non quello di Marcellino La palla però scivola Ancora per Galati Che punta l'avversario Fiorentino Si accentra Mette in mezzo E per un attimo Non ci arriva Il numero 16 Calabrese Era una palla Di quelle velenosissime Che è andata Tra Palo Portiere E Calabrese E per poco Per poco Il Monasterace Non riusciva A colpire ancora Con una bella trama Offensiva Il Montepaone Montepaone Che ora cerca Di ragionare Anche se le tre punte Chiaramente allungano Un tantino la squadra Con Bassi De Masi Che recupera E quindi con i centrali Che debbono Partecipare maggiormente Alla costruzione Dell'azione E Marcellino Che di destro Cerca di innescare Domenico Voci Capisce tutto Scarano Il rilancio però È per Mellace Tocco per Fiorentino Si distende Il Montepaone Fiorentino Alza la testa Mette la palla in mezzo E ci pensa ancora Messineo A ribattere Con Fraietta Anticipato da Mellace Tocco all'indietro Per Bassi De Masi Che allarga Per Ienco Arriva a vuoto Calabrese Ienco Cerca di evitarlo Ritorno di Calabrese Che gli mette la palla Rimessa laterale E sarà ancora Il Millennials Del Montepaone Effettuare la rimessa Con Marcellino Che recupera Scambia ancora Probabilmente Con Ienco Anzi mantiene Il controllo Della palla E poi Cerca di metterla In mezzo Un rimpallo Lo favorisce Si impenna il pallone Papaleo Manda via La sfera Ma non troppo Con Bassi De Masi Ancora un cross Verso Marco Voci Defilato sulla destra Recupera il pallone Ha di fronte a sé Scarano Vede Fiorentino Gli fa arrivare la palla Fiorentino La mette in mezzo Danza su tutta l'area Di rigore La palla Ma nessuno riesce A impattarla Ancora un cross Di Marcellino Dice di Nosc Il numero 2 Poi Gaetano E la palla Finisce rimessa laterale Siamo di fronte A una serie di attacchi Tambureggianti Da parte del Monte Paone Con il pallone Che viene restituito Poi è a cattapalle Perché Ienco Se l'è raccolto da solo E si prepara appunto Alla rimessa laterale Con Marcellino Che ha spostato La sua posizione Con l'ingresso In campo di Pierritano E ancora Mellace Che mette in mezzo Deviazione Da parte di un difensore Del Monasterace E il recupero Di Minici Che fa chiaramente Trascorrere qualche secondo Minici portiere D'esperienza Ma anche portiere Di un certo peso Che si prepara Ora al rinvio Quando siamo giunti Al 26esimo minuto Di gioco Monte Paone 1 Monasterace 1 La palla finisce A Marcellino E poi a Domenico Voci Per Mellace Tocco verso Pierritano Si inserisce Guido Che protegge il pallone Si chiude ancora La morsa dei giocatori Del Monte Paone Fraietta Controlla Evita Mellace Tocca per Guido Sono sicuramente I giocatori dotati Di maggiore tecnica Che è la squadra Del Monasterace E Domenico Voci Che si appoggia Per Marcellino Il tocco è per Marco Voci Contrato da un difensore Avversario Tocco verso Fraietta Che raccoglie la palla Si accentra Lo chiude Alla grande Fiorentino Ancora un rimpallo E poi sbroglia La situazione Ienco Il colpo di testa Di Scarano Vede ancora Domenico Voci Che non riesce A controllare la palla Il campo finisce E c'è la rimessa laterale Con Pilato Che tocca ancora il pallone Mellace cerca di mettere ordine Domenico Voci Marcellino Mellace Colpo di tacco Subisce un fallo Da parte di Guido Mellace Cade per terra E ci sarà punizione In favore del Montepaone Quando siamo giunti Al ventisettesimo minuto Di gioco Interessatissimo Come dicevamo prima Anche se per motivi professionali Evidentemente Non può parlare Anche l'osservatore Che abbiamo notato In tribuna Che sta seguendo Appunto questa partita Ma vediamo che Mellace Si riprende subito E si prepara appunto A calciare Con probabilmente Il destro La palla Oltre la metà campo Verso l'area di rigore Anzi no Si appoggia A Lombardo Perché il Montepaone Vuole costruire L'azione Arrivare poi Alla conclusione Ragionata Dopo il fraseggio Così come vuole Mister Pisano E ancora Ienco Che si inserisce Viene chiuso molto bene Però dalla difesa In questo caso Si trattava di Gaetano Del Monasterace La palla si impenna Procopio Viene anticipato Sia da Guido Che da Messineo Ancora una rimessa laterale Con Ienco Che tocca per Marcellino Riceve la palla Il giocatore Del Monte Paone Guido Cerca di controllarla Ancora una rimessa laterale Ventottesimo E trenta secondi di gioco Uno a uno Il Montepaone Non riesce Ad accelerare Mentre il Monasterace Si è chiuso benissimo C'è un duro intervento Su Pirritano Da parte di Guido L'arbitro Fa continuare E ancora una volta I giocatori del Montepaone Recuperano la sfera Finisce a Procopio Che la protegge O almeno ci tenta Perché Ci sono almeno due giocatori Del Monasterace Che proteggono il pallone Va a terra Guido Si riprenderà Con una punizione In favore della squadra Ospite di Mister Regolo Squadra che sta Sull'uno a uno Sul difficile campo Del Monte Paone E quindi sicuramente Si sente molto motivata Nella difesa Di questa situazione Per il Monasterace Positiva Si prepara appunto Minici A effettuare Questo Questo rinvio Con i piedi Che andrà sicuramente Oltre la metà campo Rinvio lungo A cercare però Bassi dei Masi Ancora un rimpallo Con Fraietta Che stoppa il pallone E poi lo mette In rimessa laterale Perché Galati Non riesce a raggiungere Il suggerimento Sicuramente non Precisissimo Come sarà Quest'ultimo quarto d'ora Giuseppe? Intenso e combattuto Perché entrambe A questo punto Vogliono centrare L'obiettivo Vorremmo Vorremmo anche aggiungere Che i due allenatori Hanno messo in campo Da un lato Pirritano Dall'altro Fraietta Che hanno Vivificato L'azione Di entrambe Le squadre Dimostrandosi Due giocatori Da panchina lunga E ancora Mellace Che lancia In profondità Dove però C'è Gaetano Che raccoglie La palla E rinvia Innescando Fraietta Anticipato Da Bassi De Masi Che con personalità Supera la metà Campo Si appoggia Su Fiorentino Segue il dialogo Seguendo la diagonale E poi mette in mezzo Mette lungo Per Domenico Voci Che controlla Ha di fronte a sé Tassone Che con grande esperienza Gli ribatte la palla Il tocco ora Di Scarano Per Calabrese Che perde palla Domenico Voci La ruba Se ne va Fiorentino Viene messo giù Da Calabrese L'arbitro è lontano Non poteva vederlo Questo fallo Con Canistrà Che si appoggia ancora Su Fiorentino Che se ne va in velocità Viene messo giù Ancora Da Scarano E questa volta Giusta la segnalazione La punizione In favore del Montepaone In una posizione Sicuramente interessante Per Mellace Mentre C'è Bassi De Masi Che ha qualcosa da dire Con Tassone E poi Con Guido Sicuramente In questi momenti Serve mantenere la calma Mentre Guido E Papaleo Hanno qualcosa da dire Nei confronti Di Bassi De Masi Giocatori Di personalità Che sicuramente Fanno sentire Il loro peso Sullo scacchiere Di gioco Al momento Mentre Marco Voci Va appunto A separare Insieme a Ienco I vari contendenti Ma questa è una bolgia All in the box Parte Mellace Esce Minici Sul pallone lungo Mentre era volato via Un giocatore Del Montepaone Si trattava Se andiamo errati Di Cannistra E la palla Viene rimessa In rimessa laterale Non si capisce bene Perché probabilmente Minici Aveva pensato Che si fosse infortunato Cannistra Che invece recupera La propria posizione Al 32esimo minuto Di gioco E ancora Minici Servito Da Marco Voci Che si prepara Appunto Al rinvio Con i piedi Lancio lungo A favorire Calabrese Che per un attimo È libero Da marcature Parte in velocità Anche Pilato Che vince il Tekel Con Cannistra Si inserisce al centro Recupera palla Calabrese Tiro di Calabrese Murato Da Bassi De Masi Ancora recupera Pilato Che mette la palla In mezzo E Lombardo La fa sua Facendo ripartire Tutto il Montepaone Con Fiorentino Attenzione Perché Pilato È rimasto fermo Un giocatore in meno Per il Monasterace Con Fiorentino Che accelera Cerca di lanciare Procopio Che recupera la palla Prima che vada in out Di fronte a sé Tassone Infelice il controllo Di Procopio Il cross Finisce lontano Dalla porta difessa Da Minici E quindi si riprenderà Con un calcio di rinvio Con un Monasterace Che assolutamente Non molla Anzi soprattutto Diventa pericoloso Nella misura in cui Il Montepaone Sposta in avanti Il proprio baricentro E ancora Minici Che calcia con decisione Alla ricerca di Calabrese Che cerca un improbabile Colpo di testa La rimessa laterale Per Fiorentino Ancora Procopio Che ha dietro di sé Tassone Allarga il pallone Ma Fraietta Lo ruba Agli avversari Ancora Fraietta Che viene cercato Da Pilato E poi ci pensa Marcellino A mettere la palla In rimessa laterale Si riprenderà Con una rimessa laterale In favore Del Monasterace Con mister Pisano Che appunto Richiama i suoi Dicendo Dovete giocare C'è tempo Tranquillità Mister Pisano In questo momento Come Allegri Quando richiama I giocatori Della Juventus E ancora Scarano Anticipato Fraietta Da Mellace La palla finisce Ancora a Calabrese Ma il colpo di testa Favorisce il recupero Di Bassi De Masi Bassi De Masi Marcellino Scambio con Mellace Ancora Bassi De Masi Si dialoga Per poter mettere Il giocatore Che rinvia la palla In condizioni Di avere davanti a sé Tutto lo scacchiere Di gioco Ancora Mellace Con Bassi De Masi Perché c'è anche Il pressing Del Monasterace Portato avanti In questo momento Da Fraietta Il tocco è per Marcellino È partito Ienco Marcellino non lo vede Con Domenico Voci Che si appoggia Ancora Bassi De Masi Che ora allarga Verso Cannistras Stop di quest'ultimo Impreciso E la palla Finisce in rimessa laterale Sicuramente Lo sforzo Del Monte Paone Non è aiutato Dalle condizioni Del campo Perché il freddo La pioggia caduta Nel giorno precedente Cioè ieri E il campo stesso Non favoriscono I tocchi Ad alto coefficiente Di difficoltà tecnica Sarà Scarano Effettuare la rimessa Cercando Calabrese Che tocca in direzione Di Fraietta Con Fiorentino Che ricomincia a ragionare Partendo da Lombardo Lombardo per Bassi De Masi Con Fraietta Che cerca I gradi fastidio Cercando a sua volta Di intimorire Calcisticamente parlando L'avversario E ancora Cannistra Con Lombardo Che avanza Da libero aggiunto E tocca poi Per Bassi De Masi Che si distende Sulla sinistra È partito ancora una volta Ienco Che sta macinando I chilometri E ancora Bassi De Masi È da notare Anche l'abilità Con la quale Il Monasterace Sta chiudendo Tutte le linee di passaggio Con una disposizione Con due linee Di quattro giocatori Molto strette Fra di loro E Fiorentino Che si accentra La Licksteiner Tocca verso Marco Voci Marco Voci E il tiro È impreciso Marco Voci Solo davanti al portiere L'ha messa fuori Si era liberato bene Tutto molto bello Tiro infelice Vero Maurizio? Troppo infelice Purtroppo siamo abituati Anche a questo genere Di azioni Dove Spesso è protagonista Il giocatore Che più va a segno Mal per lui Perché potrebbe Veramente Incrementare Di molto La sua classifica Marco Voci Eptamarcatore Del Montepaone Attenzione Perché Tassone È pressato Da Procopio E da Pirritano Che cercano Di rubargli Palla E poi Tassone La protegge Con esperienza Conquistando Una rimessa Dal fondo Diciamo Sette i gol In questo Fino ad oggi Di Marco Voci Mentre invece Il gol di Pirritano Avvenuto Come abbiamo detto Al dodicesimo Del secondo tempo Ha messo La situazione In pareggio Tra Montepaone Monasterace Ancora Domenico Voci Che controlla il pallone Tocca per Procopio Intervento di Tassone Parte Marco Voci Anticipato Da un ottimo Scarano Che poi Fa impennare la palla Dove però Mellace La tocca In maniera imprecisa Recuperandola E poi scambiandola Con Fiorentino Il tocco Per Cannistra Disturbato Da Pilato La palla Si impenna Tassone Colpisce di testa In una zona Dove c'è soltanto Papaleo Che alza il pallone Con rilancio Alla viva il parroco Stop di Bassi De Massi Ripartenza E un Montepaone Con la baionetta Fra i denti Che sta attaccando Cannistra Ancora lungo Ma non aggancia Scarano E la palla finisce In rimessa laterale Con Fiorentino Per Domenico Voci Che arriva al cross E all'ultimo momento Impatta il pallone Col piede sinistro E non riesce a controllare Attenzione Perché esce Cannistra Ed entra Conidi Al trentaseiesimo Del secondo tempo Quindi in campo Anche Conidi Che dovrebbe sfruttare Come Cannistra La sua forza Anche sui colpi di testa E dare supporto Alla fase difensiva Che comunque Resta importante Vediamo ora Che a sua volta C'è subito La risposta Di Mister Regolo Con l'ingresso Se non andiamo errati Di Carnuccio Vediamo chi uscirà Probabilmente il giocatore Più lontano Anzi no Scarano E quindi esce Scarano Il numero tre Ed entra Carnuccio Quando siamo al trentasettesimo Del secondo tempo Quindi Anche Carnuccio Messo in campo Insieme a Fraietta E a Calabrese Per un Monasterasce Che sta riuscendo Appunto Nell'impresa Probabilmente Ha dato tutto Scarano E soprattutto Si rinforzano Gli ormeggi Con un giocatore Fisicamente Più grosso Rispetto appunto A Scarano Vediamo che intanto Papaleo Manda via I parastinchi E quando un giocatore Si toglie i parastinchi Mimmo Cosa significa? Significa che gli hanno fastidio Molto probabilmente E questo è Mimmo Cosentino Che piace a noi E piace a tutti I telespettatori Ecco che C'è il tocco di Mellace Per Fiorentino Dopo l'appoggio all'indietro Di Domenico Voci E il passaggio Per Pirritano Che non riesce a mantenere Il pallone In campo E ancora Tassone Il capitano Del Monasterace Che si prepara appunto A questa rimessa Quando siamo al 38esimo Del secondo tempo Il risultato è di parità Uno a uno Tra Monasterace E Montepone Fraietta ruba Un importante pallone A Mellace Lo fa dondolare Sulla linea di out E conquista Una rimessa laterale Sicuramente importante Per spezzare il ritmo Della squadra di casa Che sta producendo Appunto L'attacco decisivo Verso Appunto La potenziale vittoria E ancora Tassone Con Domenico Voci Che tocca per Procopio Interviene Carnuccio Con decisione Parte però Ienco In velocità Di fronte a sé Gaetano E Gaetano Conquista palla E conquista anche La rimessa laterale La velocità di Ienco Contro la solidità Di Gaetano E alla fine Rimessa laterale In favore del Monasterace Che finora Non sta affatto Demeritando Con Guido Che tocca per Gaetano Ancora la palla Per Pilato E Galati Che dialogano Pilato ruba palla La mette in mezzo Si chiude però La difesa Del Monte Paone E riparte Vediamo con Ienco Che appoggia Per Marcellino Ancora si ragiona Nella metà campo Del Monte Paone Con Bassi De Masi Che apre per Lombardo E poi per Conidi E mentre stiamo Per entrare Nel quarantesimo Del secondo tempo Chiediamo a Giuseppe Ranieri Di indicarci Quelli che per lui Sono i migliori in campo Per il Monte Paone Ienco E per il Monasterace Messineo L'autore del gol E quindi ricordiamo I nostri telespettatori Che possono convalidare Attenzione Il cross Di Pirritano E la palla Finisce Finisce in out Però toccata Probabilmente Da un giocatore Del Monasterace Dicevamo che Le scelte di Giuseppe Ranieri Per i migliori in campo Possono essere accettate O variate da voi Utilizzando il tasto Fucsia In basso Nel vostro telecomando Come di consueto Sarà ora Minisce Effettuare questo Rinvio Quando siamo giunti Al quarantesimo E dieci secondi Del secondo tempo Il colpo di testa Di Conidi A favorire Marcellino Però si inserisce Guido Che viene contrato Da Procopio Ruba ancora palla Fraietta Procopio recupera Appoggia per Domenico Voci Impreciso Con Calabrese Che sventaglia Il più lontano possibile Mettendo la palla In rimessa In rimessa laterale Ma secondo l'arbitro Probabilmente La rimessa È ancora a favore Del Monasterace Con Marchesano Che probabilmente Ha visto qualcosa Che a noi Che a noi È spuggita Sarà Gaetano Effettuare questa rimessa Superando con i piedi La metà campo E quindi cercando Un compagno libero Il colpo di testa Però vede Ancora una volta Intervenire Conidi E la palla viene ribattuta Con Mellace Che colpisce Verso la zona di competenza Di Fiorentino Che serve per Marco Voci Intervento deciso Di Tassone Giusta la segnalazione Da parte dell'arbitro Con Mellace Che si riappropria Della palla Disturbato Disturbato da Calabrese Che mette la palla Da lontano Qua forse Si prepara appunto Favorire Marco Voci Che si appoggia su Fiorentino Sulla destra Tra le braccia Per cercare di prendere i tre punti Nell'impostare l'azione Perché solo così si può scardinare il bunker E vediamo ancora un 4-3-1-2 Del Monasterace Che è veramente difficile da superare Il lancio è verso Ienco Che controlla la palla Sulla sua fascia di competenza Si appoggia ancora a Bassi De Massi Tutto il Montepaone È arrivato Nella metà campo Del Monasterace La palla finisce per Procopio Domenico Voci Si gira Contrato E questo è il rigore C'è un fallo di Messineo Che ha agganciato La caviglia destra Di Domenico Voci In un momento in cui si era bloccato Domenico Voci Per cercare di saltarlo E quando siamo al 44-simo minuto Rigore assegnato da Marchesano Che sarà affidato probabilmente a Marco Voci Un rigore importante Un rigore però probabilmente giusto Perché è stato agganciato Al centro dell'area Proprio da Messineo Mentre segnala Se vediamo bene Tre minuti di recupero L'arbitro di Taurianova Ma sarà Marco Voci Che si prepara A calciare questa massima punizione Marco Voci contro Minici Un salto Un passo Ancora un passo Parte Marco Voci Ed è il gol del Montepaone Al 46esimo Esplode il Frabotto Mannis Tutti sotto la maglietta Di Gregorio Vatrella E' lui che ci guarda dal paradiso E percorre appunto Quelle strade Che ti fanno ancora Montepaone E' lui al quale vanno A dare un abbraccio simbolico Tutti i giocatori E la squadra di Mister Pisano E al 45esimo di gioco Il Montepaone torna in vantaggio Rigore di Marco Voci Rigore battuto con freddezza Nonostante che Minici Avesse interpretato bene Appunto la direzione Il Montepaone in vantaggio 45esimo minuto del secondo tempo Sul rigore Marco Voci Dopo il gol di Pirritano Al dodicesimo Al dodicesimo del Secondo tempo Ecco che c'è ancora qualcosa Che c'è da dire Tra le due panchine Attenzione C'è un momento di nervosismo Vediamo se Marchesano Riuscirà a tenere in mano La situazione Perché sicuramente Il Monasterace Non ci sta a perdere Sul rigore All'ultimo minuto Anche se il rigore Era netto E si accendono più capannelli In più posizioni del campo Per cui diventa Difficilissimo Per l'arbitro Poter controllare Tutte le situazioni Anche se Sembra che I più tranquilli Delle due squadre Siano riusciti A distribuire Momenti di calma Anche agli altri giocatori C'è Papaleo Che ha qualcosa da dire Anche a Mister Pisano Vediamo Marchesano Che cerca di tranquillizzare Senza Senza ricorrere Al cartellino Questa può essere Una scelta Una scelta importante Perché significa Che ha Una personalità Per evitare Di mandare fuori Persone Che potrebbero Sicuramente Essere Poi Frutto di ulteriori Polemiche Intanto Se ne sono andati Due dei minuti Di recupero Assegnati Ma sicuramente Ci saranno Altre situazioni E momenti Da recuperare E l'ammunizione Alla fine È per Procopio In questo caso Ha scelto Ha scelto Di ammonire Praticamente L'unica persona Tranquilla Quindi Mimmo Cosentino In questi casi Gli arbitri Ammoniscono L'unico Che non ha fatto niente Sì ma qua Doveva togliere Il cartellino Per parecchi giocatori Almeno ammonirli Non da espulsione Invece Non ha fatto nulla Anzi Ha fatto una cosa L'ha fatta sbagliata Intanto Guido Che effetto La rimessa Per Fraietta Che tocca Che riceve palla In un mezzo A un nugolo Di giocatori Del Montepone Chiede il fallo Di mano Nei confronti Dell'arbitro Fraietta Con una grande decisione Nei confronti Del signor Marchesano E intanto C'è il rinvio Della Spera Verso Messineo Che recupera il pallone Con Procopio Che va a cercare E dargli fastidio Carnuccio Recupera la palla La lancia Lunga in profondità Bassi De Masi Marcellino A questo punto Siamo al 48esimo Si combatte Perché il monasterace Non ci sta Il colpo di testa Di Pilato Vede favorire L'arrivo di Lombardo Che poi aspetta Calabrese Prima di recuperare Di recuperare la palla Sicuramente Un finale Incandescente Montepone 2 Monasterace 1 Si prepara appunto Lombardo A calciare la palla Il più lontano possibile Al 48esimo E 50 secondi Di gioco Colpo di testa Di Gaetano Con Guido Che raccoglie la palla Gliela ruba Marcellino Che poi tenta La soluzione importante Cercando di sorprendere Minici Forse avrebbe fatto Prima A passare a Pirritano A guadagnare Altri secondi Ammunizione Random Random Di Marchesano Nei confronti Di Fraietta Per cattivi pensieri Potremmo dire Ecco che il tocco È per Messineo Riparte ancora Il giocatore Del Monasterace Il lancio È per lo scatto Di Galati Fermato ancora Da Bassi De Masi Che manda la palla Il più lontano possibile E finisce Finisce qui la partita Con l'arbitro Che appunto Fischia Il triplice Per la Finale La partita Tutti quanti C'è Papaleo Ci sono tutti Altri giocatori Si accende Un capannello Vediamo un attimo Che succede Qualcosa Che non ha niente A che fare Con lo sport E quindi C'è una Una serie di situazioni Che sicuramente Non fanno bene Al calcio C'è una vera e propria Rissa In campo Il Montepaone Ha vinto Per 2 a 1 E tutte queste cose Sicuramente Non vanno bene Vediamo che ci sarà L'intervento Anche Della forza pubblica Sono tutti Scatenati In una vera e propria Caccia Caccia all'uomo Vediamo ora Cosa succederà Noi possiamo Soltanto dire Che questa partita Finisce per 2 a 1 In favore del Montepaone Partita Che alla fine È stata risolta Dal rigore Di Marco Voci Con Vediamo un giocatore Che addirittura Va via Da un'altra parte Ricordiamo La rete di Messineo Al trentesimo Del primo tempo Poi Il pareggio Di Pirritano Al dodicesimo Del secondo tempo E il gol Sul rigore Di Marco Voci Al quarantacinquesimo È l'esterna 65 Di S1 TV Che con un po' Di tristezza Perché in una giornata Dove il Montepaone Ha vinto E c'è stata Una bella partita Si finisce In una maniera Che non ci piace Affatto L'esterna 65 Di S1 TV Con Antonio Siciliano Pasquale Lentini Giuseppe Ranieri Maurizio Vatrano Il coordinamento Giornalistico Di Adele Chiaravalloti Vi saluta Ricordando Il finale È stato un finale Che non ci piace Il Montepaone Ha vinto Per 2 a 1 Nei confronti Di un Monesterace Che fino all'ultimo minuto Ha dato filo da torcere Alla squadra Di mister Pisano Per stasera Ci fermiamo qui Con un po' di magone Ma con una vittoria Del Montepaone Ricevitoria Gerace A Montepaone Da noi puoi giocare Superera 8 Totogol Totocalcio Trist giornaliere E Win4Life Ogni ora Agenzia autorizzata Per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche Pagamento bollette Dal 1975 Al tuo servizio Ed in attesa Della tua giocata Vincente Puoi consumare Un gustoso aperitivo Nell'annesso bar Ricevitoria Gerace Vi aspettiamo In via Padre Pio A Montepaone L'Itapo Su di noi Puoi scommetterci Pagamento bollette Puoi scommetterci Puoi счettuto Il dólar Il Puoi through Questa A Il Grazie a tutti.